Ripresa a Porto Viro, presso la Sara Eracle, la vaccinazione della popolazione. Più di 200 persone nella giornata di martedì 23 marzo sono state vaccinate. La disponibilità maggiore di dose vaccinali permetterà di coinvolgere via via categorie di cittadini e aree di popolazione sempre più ampia per riuscire a raggiungere l'obiettivo entro il fine estate della copertura del 70 per cento della popolazione. Al fine di raccogliere in maniera continuativa tutte le informazioni relative alla sicurezza e all'efficacia del vaccino è fondamentale che gli operatori sanitari e i cittadini segnalino tempestivamente eventuali sospette reazioni avverse che dovessero verificarsi. Le segnalazioni direttamente online sul sito VigiFarmaco. Il sito è di libero accesso e non necessita di registrazione e la confidazione della scheda di segnalazione è nel pieno rispetto della privacy. Come sempre in ogni caso la preziosa collaborazione della protezione civile.